La vera protagonista è ovviamente Roma, chi l'ha letto se n'è accorto. Questo perché io mi sono innamorato di Roma, non è successo subito. Io sono venuto a Roma per studiare, ho studiato filosofia a Roma, vengo dalle Marche, da San Mennetto del Tronto. Avevo passato un po' in quei primi anni quello che accade ai Romani, cioè mi ero abituato, mi ero abituato alle statue, mi ero abituato ai palazzi, mi ero abituato a vedere il Corseo. Poi mentre passavo una sera per i Capitolini, vedi una labide con su scritto FCS e sotto la didascalia raccontava di questo culto di fulmini, di cui io non sapevo nulla. E' scattato qualcosa. Io mi sono completamente di nuovo innamorato di Roma come se la vedessi per la prima volta. Lasciarsi meravigliare da Roma vuol dire acquisire un punto di vista, che è quello che cerca per tutto il libro Matteo. E' quello che ho cercato io, a volte cercandolo salendo sopra i colli, salendo sopra il genicolo per vederla dall'alto, a volte scendendo invece nelle cavità ipogee, l'incontro con un editore, Simone Caltabelota di Atlantide, l'incontro con una Roma diversa, l'incontro con questo culto di fulmini, ha fatto venire fuori un mix esplosivo. Pensate, questo è un libro, questo è il mio primo libro.